buongiorno buongiorno a tutti e bentornati su gaming galaxy il vostro portale di intrattenimento per guida e news e build e tutto quello che volete sapere sui vostri videogiochi preferiti ovviamente se non siete iscritti al canale per favore iscrivetevi a noi ci fa soltanto piacere avere una community sempre più numerosa e se invece siete iscritti ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video tra i primi giochi che introdurranno playstation 5 quindi uno dei primi a portare la prossima generazione di console è godfall di counterplay games ovviamente un gioco che arriverà anche su pc nello stesso identico momento godfall è stato visto alcune volte in azione in trailer e video ma alcune delle curiosità più integranti sul gioco sono cose che gli sviluppatori hanno menzionato solo di passaggio e che non sono ancora diventate trailer o video di gameplay i ragazzi di gamespot che ringraziamo infinitamente hanno parlato finalmente con il regista godfall kate lee che ha spiegato parecchie cose riguardanti il titolo lì quindi ha dichiarato la visione per realizzare questo gioco era come unire le fasi di looting con i combattimenti corpo a corpo in terza persona ottenendo meccaniche di combattimento davvero succose serrate pensiamo di esserci riusciti grazie a diversi sviluppatori del team che adorano titoli molto diversi tra di loro ha poi spiegato lì tuttavia ci sono anche persone nel nostro team dato il nostro background dopo aver lavorato su diablo e dopo aver lavorato in blizzard che abbiano sempre avuto un amore per i giochi di ruolo basati sul looting adoriamo giocare a borderlands per esempio quindi l'originale premessa per la creazione di questo titolo era possiamo creare un gioco che si trova da qualche parte nel mezzo tra tutti questi titoli lì ha affermato che padroneggiare l'ampio sistema di combattimento di godfall sarà una parte importante dell'esperienza ma anche la ricerca di un bottino migliore farà parte di questa esperienza continuando ovviamente ci ha anche spiegato un pochino come è finalmente il mondo di godfall in godfall ci sono 12 valorplate da sbloccare o classi ognuno con il proprio set di statistiche specifico un buff passivo per il proprio personaggio e un'abilità archon l'abilità archon di un valorplate sembra quasi un'abilità suprema o final in un gioco come overwatch o un'abilità super in un gioco come destiny 2 una cosa unica e potente che puoi usare solo dopo aver caricato una barra per sbloccarlo quindi a causa delle diverse statistiche abilità di archon che ogni valorplate offre bisognerà scegliere il valor pre giusto per una determinata missione o per il ruolo in un gruppo se stai giocando in modo cooperativo oltre ai tuoi valor plates avrai anche altri equipaggiamenti che determinano il modo in cui giochi esistono cinque diverse classi di armi da tenere in considerazione nel tuo loadout offrendo diversi stili di combattimento oltre a potenziamenti che puoi equipaggiare nei tuoi valor plates per raggiungere diversi vantaggi e modifiche alle statistiche il tuo personaggio avrà un livello generale che aumenterai mentre giochi e non un livello unico per ogni tuo valor plate aumentare il livello sblocca i punti abilità che puoi assegnare su un albero classico delle abilità come in altri giochi di ruolo e basati sul looting troverai armi più forti mentre giochi ma dovrai continuare ad aumentare il tuo livello per accedervi se trovi armi che ti piacciono in particolare però puoi usare materiali di fabbricazione per aumentare il potere potenziando nel settimo santuario la base di partenza del tuo personaggio fino ad ora quindi tutto ciò che è stato spiegato da lì non è nulla di innovativo è un semplicissimo gioco grinder con meccaniche per la progressione del personaggio già viste in centinaia di altri titoli come questo il sistema inoltre sia di valor plate che si possono chiamare classi che il sistema armi sono praticamente identiche a quelle già viste in monster hunter world riprendendo inoltre i livelli potenziamenti da altri titoli come ante o destiny 2 e simili sono riusciti in questo caso a mischiare un po diversi titoli sperando non abbiano fatto un pastrocchio continuando lì ha spiegato che il gioco sarà basato più sul loadout estetico che ci porteremo dietro e sarà quello il motore del gioco piuttosto che sulle mere caratteristiche i numeri dell'equipaggiamento che indosseremo dal punto di vista siamo meno orientati a generare un numero infinito di combinazioni ha detto ma più a pensare al looting un po come monster hunter world o forse come god of war dove il drop è un po più specifico ha aggiunto poi lo stesso lì che si stanno concentrando non sulla quantità di loot ma sulla qualità del loot stesso l'attenzione sul sistema di looting è la stessa attenzione che stanno usando sul combattimento corpo a corpo che lì ha confrontato con god of war o devil my cry 5 nel 2019 ma al contrario di un gioco come souls born si cercherà di controllare il campo di battaglia dare la priorità ad alcuni nemici rispetto ad altri e creare combo godfall include infatti più di 90 tipi di nemici quindi avremo molte potenziali combinazioni con cui ci scontreremo e dovremmo imparare a gestirle abilmente tutte e questo è un punto focale di gameplay di godfall aggiungendo le parole di lì a i 90 tipi di nemici lì stesso dice il modo in cui abbiamo progettato i nostri pilastri da combattimento da zero quando abbiamo iniziato a progettare il combattimento è che l'offesa fosse migliore della difesa quindi pensiamo davvero di assicurarci che il giocatore possa provare quella sensazione di potere offensivo come nei giochi fantasy quindi la maggior parte dei giochi souls born sono molto difensivi nel senso che poi ti vuoi isolare vuoi fare uno scontro 1 contro 1 è svantaggioso per te combattere 2 contro 1 quindi vuoi essere sempre molto sistematico con il tuo modo di giocare mentre per noi quindi per gli sviluppatori vogliamo che tu senta che puoi dominare e sviscerare completamente i tuoi nemici se sai come giocare quindi abbiamo aggiunto uno spettro molto più ampio di nemici più varietà e di conseguenza non combatteremo ne combatteremo anche molti contemporaneamente insieme come ultima cosa lì parla delle missioni e delle cacce come vedete già soltanto chiamando le cacce si può definire che non sarà altro che un titolo che andrà a cercare di sostituire monster hunter world che comunque oramai a fine anno avrà la sua fine e di conseguenza probabilmente questo titolo prenderà il suo posto l'idea comunque in godfall è che durante la storia noi avremo delle missioni che si concluderanno sia in mezzo che a fondo missione con l'uccisione di determinati boss fino ad arrivare a scalare il monolito di skybreaker al centro di godfall e uccidere il dio pazzo in cima queste missioni questi boss ovviamente noi non li troveremo anche durante le cacce cacce che noi potremo fare a parte quindi oltre la storia e partire direttamente alla settimo santun con il nostro gruppo o in solitaria in quelle cacce troveremo altri boss e altri nemici che durante la storia invece non avremo visti quindi ci sarà veramente un ampio spettro di nemici come è stato riferito che potremmo e dovremo andare ad affrontare come ho detto prima infatti finendo di leggere l'articolo si capisce quanto in realtà i titoli precedentemente citati hanno veramente influenzato il svolgersi e la creazione di godfall sperando ovviamente che sia all'altezza di queste aspettative e che sfrutti a pieno sia le funzionalità di ps5 si spera ovviamente che ovviamente le funzionalità del pc ma quelle sono ovvie che verranno sfruttate e che soprattutto sia graficamente apprezzabile molto di più magari di un monster hunter war che oramai qualche annetto sulle spalle c'era bene spero di esservi stato utile con questo è tutto noi ci rivediamo al prossimo video con godfall e aspettiamo con ansia la sua uscita gg a tutti quanti